Niente, è stata bene la gara, sono partito forte, subito bc start è una cosa nuova e diciamo, essendo da solo è stato un po' difficile partire, anche se mi sono fatto dare la mano di un ragazzo di Hong Kong Sono partito forte insieme a Simone, eravamo primi fino alla prima boa e ho passato prima lui, dopodiché mi sono messo in controllo della gara, ho cercato di dare una buona distanza dal terzo così per tutta la gara ho cercato di risparmiare un po' le forze per domani e spero di fare una buona gara